Katia Torchio, buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora Katia, riflessioni d'autore, ennesima puntata, noi oggi arriviamo alla conclusione di un percorso che abbiamo iniziato ormai possiamo dire a settembre, perché era un tema che comunque ci ha portato via parecchi. Il tema proprio del senso, la ricerca del senso e della vita che ogni giorno, penso, uno di noi ci impegna, ma soprattutto è la prima domanda che ci facciamo la mattina quando ci svegliamo e poi la sera quando andiamo a dormire. Ci sono momenti in cui ce lo chiediamo pure più volte al giorno, quando delle situazioni sono stato ottimista. Cioè, delle situazioni ci coinvolgono, ci assalgono, diciamo. Infatti. E quindi ci interroghiamo con regolarità, ripetutamente, su quello che è il senso a questo punto della vita. Infatti poi ci sono stati scrittori, poeti, che nel corso dei secoli, possiamo dire anche dei millenni, hanno avuto il coraggio poi di mettere su carta e di immortalare quell'attimo, quei pensieri. Uno di questi è stato, è abbastanza recente, Ungaretti. E' con Ungaretti che concludiamo oggi. Perché io ritengo che Ungaretti un senso l'abbia trovato alla vita. Una vita che per Ungaretti non è stata semplice. Una vita intensa, ma intensa di dolore. Perché Ungaretti ha vissuto il dolore quello vero, il dolore più profondo, lagerante che si possa vivere. Diciamo che nel panorama, ecco, dei poeti che si sono interrogati, adoperati in quella che è la ricerca di un senso della vita, sicuramente Ungaretti è quello che più di tutti è riuscito a trovarlo, questo senso. E lo fa agli inizi del Novecento, lo fa in questo momento particolare, in cui poi, diciamo, si crea una posizione bellissima, magnifica. Ungaretti è uno dei più grandi esponenti della poetica novecentesca, e mi riferisco soprattutto all'ermetismo, di cui è stato precursore, ma anche massimo esponente. Perché è a questa corrente che lo andiamo ad inquadrare. Ed è in questa corrente che si esprime, si esprime con una poetica che è meravigliosa, affascinante, ed è chiara, nonostante, ecco, ripeto, ermetica. Sì. Quando ci troviamo di fronte a questo termine, quindi a questa corrente letteraria, un po' ci blocchiamo, perché ci aspettiamo un qualcosa che richieda un impegno maggiore per essere compreso. Adesso non è così per Ungaretti. No, assolutamente, anzi. La poetica di Ungaretti, che ripeto, si affaccia al panorama, diciamo, letterario, in un momento un po' particolare, che è l'inizio Novecento, e lo vive, questo inizio Novecento, in maniera molto intensa. Nasce ad Alessandria d'Egitto, dove trascorre la sua vita fino alla prima giovinezza. Il padre si era trasferito lì per ragioni di lavoro, è lì che nasce e cresce. Fino a quando, per ragioni di studio, di lavoro, non stiamo poi qui a scendere nei dettagli biografici, si sposta ed inizierà un girovagare, no? Che lo consumerà proprio come energie, perché girerà posti disparati. Ma diciamo che l'Egitto, Alessandria, gli rimarranno nel cuore e soprattutto il deserto e il mare, con quella spaziosità senza spazio, infinita, gli rimarranno dentro come dimensioni poetico-esistenziali, profondissime, come senso di immenso, di infinito, ma soprattutto gli scaveranno un vortice dentro, un vortice intimo, che soltanto il riuscire a ricercarci un senso, soltanto il bisogno di colmare con un senso, con un significato, riuscirà in qualche modo a gestire. Cioè, Ungaretti, il deserto e il mare, che se vogliamo hanno... Avevano un significato molto particolare, sembrano simili. Sembro bravissimo, hai detto una cosa che mi hai anticipato, perché in realtà il senso, è il significato, l'immagine geografica, fisica del mare e dell'infinito, alla fine sono un po' assimilabili, seppure diverse, perché sono infinite, immense. E questa immensità in lui diventerà ansia immensa di ricerca, no? E lo porterà ad un nomadismo che non è solo, biografico, come vi stavo anticipando. Sarà proprio un nomadismo inteso come ricerca. Ebbene, lui aveva bisogno di trovarlo un senso, perché Ungaretti vive la guerra del 15-18, e la vive proprio sul Carso, la combatte. Proprio lì, dove praticamente ci sono stati i momenti più tragici. Più tragici, quando la guerra era guerra davvero. E proprio guardando lì il Carso, quello che succedeva nel Carso, lui scrisse la famosa frase che la morte si sconta vivendo. Ecco, bravo, bravissimo. La morte si sconta vivendo. Nei momenti di stand-by, Ungaretti, con un lapis e stracci di carta, buttava giù dei testi che poi raccolse in porto sepolto, no? Oggi cerchiamo l'iPad, cerchiamo il telefonino per scrivere, il computer, invece lì era veramente carta così. E lo faceva nei momenti in cui la guerra gli consentiva di scrivere, la guerra gli consentiva di vivere. E quindi, diciamo, inizia, inizia questo percorso poetico che lui inizia proprio dal dolore. Inizia con una raccolta meravigliosa che lui poi raccoglierà alla fine in un'antologia immaginaria chiamata proprio vita di un uomo. Lui la denominerà così, ma che parte con porto sepolto, poi denominato allegria dei naufragi e poi semplicemente allegria, no? Quindi confluirà poi in allegria dei naufragi e poi allegria. Perché ho, diciamo, ho voluto sottolineare questi passaggi che alla fine potevano essere solvolati. Perché già l'immagine del componimento omonimo che poi dà titolo alla raccolta, cioè porto sepolto, è analogica. E già ci butta immediatamente in quella che è la tecnica poetica di Ungaretti, che è analogica. Ungaretti sarà sinestico, sarà analogico sempre. Cioè Ungaretti tenderà nel comporre a mettere insieme sensazioni prese da mondi diversi e soprattutto utilizzerà l'analogia, che è lo strumento più bello ermetico che potesse adoperare. Quello però più chiaro. Immaginate il porto sepolto, già come denominazione, come titolo e poi come componimento, evoca un'immagine che è quella di un porto in realtà. Sembra più uno simolo, insomma. Brava. Perché in realtà lui aveva recuperato un'immagine che era quella reale di un porto leggendario, ma realmente esistito nelle acque, nei pressi di Alessandria. Questa immagine lui era venuto a conoscenza di questa cosa, gli era piaciuta, l'aveva affascinata e la adopererà. La adopererà perché rappresenterà proprio, diciamo, il senso più profondo di quello che sarà poi tutta la sua poetica e che inizia in questo modo, inizia così. Il porto, innanzitutto, diciamo, quando noi lo citiamo, quando noi parliamo di porto, immaginiamo un luogo di approdo. Certo, qualcosa di sicuro. Bravissimo, tante volte diciamo un porto di pace, finalmente giunto al suo porto, intendendo appunto un approdo sicuro. È quello che in realtà Ungaretti intende in questo, diciamo, componimento che poi dà inizio, ripeto, dà titolo alla raccolta. Perché quello che lui inizia in questa raccolta, e lo fa con un'immagine bellissima, che è quella dell'immersione per raggiungere questo porto. Vedete, l'immersione è pure analogica come immagine, quella che lui rappresenta è quella che sceglie, perché l'immersione un po' ci ricorda un rituale battesimale, quello di una purificazione, quello di un immergerci per raggiungere l'autenticità, la purezza. Ed è quello che lui si prefigge con questa immagine poetica, che io definisco più che componimento immagine poetica. L'immersione per il raggiungimento di un significato, di una verità. È un po' la catarsi. Bravo. La catarsi è al fine di raggiungere una verità cercata, che era questa verità che vi dicevo, una verità che lui alcune volte può sembrare, in questa ricerca, quasi una patria mai posseduta per davvero, mai voluta, chissà l'Italia, o in alcuni momenti forse proprio l'Egitto. Ma il più delle volte significa una verità difficile da raggiungere, che ci scivola proprio nel momento in cui pensiamo di averla raggiunta. E l'immagine inizia proprio in questo modo. Vi arriva il poeta e poi torna alla luce con i suoi canti e li disperde. Di questa poesia mi resta quel nulla, d'inesauribile segreto. Quindi l'immagine è bellissima, c'è questa immersione, il compito del poeta in questo momento è questo, quello di raggiungere la verità. E come fa? Si immerge, si immerge in questo porto, no? Quindi ci arriva, per poi tornare alla luce, quindi riemergere in superficie. Sperando di trovare un approdo. Quindi si immerge nel buio, nell'abisso, per ritornare alla luce, la luce, la superficie, la vita apparente. Con i suoi canti, i canti, ecco quindi la poesia è quello strumento in questo momento che serve a recuperare la verità. Quindi con questa verità poetica raggiunta, conquistata, li disperde. Li disperde nel senso di li dona agli altri, ne fa beneficio agli altri, ma non è cosa semplice. Perché? Perché di questa poesia, di questa verità, mi resta, dice il poeta, quel nulla di inesauribile segreto. Nulla non è nichilistico, nulla è quantitativo. È un nulla, è una parte impercettibile, piccolissima, quello che riesce a recuperare, a trasmettere. Perché riesce a trasmetterne una parte piccolissima, non perché non l'abbia raggiunto, perché quell'infinito nel quale si è calato, l'ha raggiunto. Ma rappresentarlo è difficile, perché è la dialettica dell'infinito che è raggiunto, che è difficile. Perché una dialettica convine fra eterno ed effimero. Anche perché Ungaretti è anche quello di cui pure l'ermetismo, era proprio far capire di come fosse complicato riuscire a comunicare a volte. Ma soprattutto la materia da comunicare era difficile, non è difficile comunicare, perché lui è uno degli ermetici che più di tutti ci riesce. La parola sua è scarna, è essenziale, è scavata, ma è molto incisiva, cioè arriva dentro. Ma è difficile la materia da trasmettere, è troppo complicata, perché ripeto, questa materia ha una dialettica che ha confine tra finito e infinito, che abbraccia l'infinito pur essendo materia proprietà del finito. E quindi diventa complicata, non è fenomenica, è nomenica, avrebbe detto Kant. E quindi è troppo difficile da trasmettere. Cerca di spiegare il perché, che poi non ci riusciremo mai. Non ci riusciremo mai, non è quello che vediamo, non è quello che riusciamo a avere il fenomeno, no? È quello che pare, faino mai in greco, no? Apparire. Ecco perché risponde con quest'ultimo verso, no? Di quel nulla di inesauribile segreto. Il segreto è un mistero inesauribile, quindi immenso ed incomunicabile. Vedete, in Porto Seporto, in questa raccolta che inizia, diciamo che emblematicamente tendiamo ad iniziare a leggere con questo canto omonimo, no? Contiene diciamo un po' i contenuti più importanti di tutta quella che è la sua poi poetica. E che il mistero, il dolore, no? Perché ripeto, questo dolore l'ha vissuto nella guerra, ma non solo. Nel 47 scrive il dolore proprio, in occasione della morte del figlio, quando il dolore che aveva già provato, aveva già vissuto, lo si riaccende per una vicenda diversa, straziante, elagerante, forse la più straziante. Quindi il dolore lui l'ha conosciuto per davvero e c'è tutto in questa raccolta. Quindi abbiamo il dolore, abbiamo il tema della guerra, che in realtà in San Martino del Carso è descritta, no? Con questi muri sbreciati, no? Proprio dalla guerra consumata, in queste immagini che sono tragiche, sono difficili proprio anche da trasmettere e da accettare. Ungaretti, il senso della vita, la risposta attraverso la poesia all'insensatezza della vita stessa. E noi vogliamo per l'appunto concludere, dicendo infatti che sì, Ungaretti attraverso la poesia si è dato e ha dato anche qualche risposta, ma poi alla fine il senso, ognuno se lo deve dare da sé. Da sé. Scusa il gioco di parole, non puoi. Certo, sicuramente il senso, ognuno lo deve trovare, lo deve trovare alla sua di vita, ognuno ha la sua di vita, no? E quindi deve trovarsi la sua risposta. Ungaretti aveva avuto, ripeto, una vita intensa, una vita difficile. Aveva toccato la guerra che, ripeto, era ineluttabilità, era condizione ineluttabile, no? Era una fatalità, no? Alla quale non ci si poteva sottrarre, non c'era nulla di patriottico in Ungaretti. La guerra si deve combattere e basta, purtroppo ti ci trovi, la devi combattere, no? Una guerra che, ripeto, descriveva anche fisicamente, no? Quindi San Martino sul Carso abbiamo visto, insomma, queste mura, questa immagine, diciamo, difficile proprio da digerire. Ma la guerra era occasione anche per riflettere sulla precarietà della vita e in soldati abbiamo questa immagine della precarietà della vita, sempre rientra nella raccolta. Si sta come d'autunno sugli alberi, le foglie. Quindi questa immagine, diciamo, quasi fisica, no? Di queste foglie in autunno sugli alberi, diciamo, destinate ad essere spazzate velocemente. Ma un'immagine, ecco, in cui la precarietà è forte, intensa, arriva subito. Proprio l'immagine. L'immagine è quella. Quindi, diciamo, della vita come un soffio, no? Il soffio di un vento che all'improvviso si può alzare e spazzare tutto via. Ma il verso anche, no? Io ho sempre, diciamo, voluto osservare. Mi sono soffermata anche sulla subitaneità dei versi. Il verso di Ungaretti è spezzato, è brevissimo, è cadenzato, no? Le Giambemande, no? Sì, se qualcuno volesse fare anche il pignolo, in alcuni casi anche sembrerebbe sgrammaticato. Sgrammaticato, certamente. Le Giambemande collega. Ma il verso stesso da solo si unisce dove si spezza. Si unisce nel punto in cui si spezza. Si spezza laddove si andrà poi a riunirsi. La cosa bella è che l'immagine, espressa pure con questa ritmicità, no? E ci lascia senza fiato. E ci fa leggere. E ci fa leggere il contenuto di questi versi, tutto in un fiato. E poi voglio concludere con Veglia, no? Che contiene l'altro aspetto, diciamo, forse il più bello di questa raccolta, che è poi della poetica, diciamo, di Ungaretti in generale, che è l'attaccamento alla vita parossistico, no? Perché in tutto questo, se lo scenario è questo, se praticamente la realtà è questa, com'è possibile un attaccamento alla vita? Ebbene, un attaccamento alla vita c'è laddove proprio la vita è drammatica, è difficile e tragica. E abbiamo questo componimento che ce lo trasmette profondamente, no? Quasi come una freccia ci arriva dentro. Un'intera nottata buttato vicino ad un compagno massacrato, con la bocca digrignata volta al plenilunio, con la congestione delle sue mani penetrata nel mio silenzio. Ho scritto lettere piene d'amore. Non sono mai stato tanto attaccato alla vita. L'immagine che leggiamo subito immediatamente nella prima strofa è quella della morte, no? Quindi l'intera notte, un'intera notte, ha buttato vicino ad un compagno massacrato, massacrato dalla morte, quindi fisicamente massacrato. Sì, perché la prima guerra mondiale fu una guerra di posizionamento, ricordiamo. Quindi nelle trincee stavano lì, per mesi sono stati lì, per anni sul carso sono stati lì e si sono mossi sì e no di qualche metro. Di qualche metro. Con la bocca contratta dalla morte, quindi abbiamo l'immagine fisica della morte sul volto di questo commilitone, di questo soldato, probabilmente giovanissimo, no? Volta al plenilunio. Le interpretazioni sull'età me le faccio sempre io, no? Mi piace poi immaginare, io me la personalizzo sempre, no? Immagino, io la interiorizzo l'immagine e ci leggo quel vissuto, no? Che forse avrebbe avuto, avrebbe dovuto avere un seguito e non ha avuto, no? Sicuramente. Quindi con quell'immagine contratta dalla morte volta al plenilunio. Abbiamo di nuovo l'immagine della luna, quell'immagine leopardiana recuperata che adesso andiamo a capire, no? Perché? Con la congestione delle sue mani, le mani sono gonfie, tumefatte, arrossate, proprio congestionate, no? E questa immagine di congestione penetra nel silenzio, nel suo silenzio. Penetrata, infatti dice, nel mio silenzio. Ho scritto lettere piene d'amore. Non sono mai stato tanto attaccato alla vita. Ecco, il silenzio di questa immagine mette in dialogo la vita e la morte. Mette in dialogo l'immagine della morte, comunica al poeta. E nel comunicargli, nell'accendere un dialogo, appunto, con il poeta stesso che è vicino al commilitone morto, in questo dialogo immaginario, tutta questa situazione, tutta questa immagine, tutta questa realtà, no? Irreale, surreale, no? Viene ad essere illuminata un'altra volta, di nuovo, nuovamente, dalla luna. Quest'astro che leopardianamente ritorna. E ritorna però in maniera diversa. perché questa luna, questa volta, forse avrebbe avuto una risposta da dare a questo ragazzo che ha avuto forse l'ultima immagine di vita nella luna stessa, che ha vissuto la luna forse come l'ultimo momento di attaccamento alla vita. E forse io ne sono certa, anche lui avrà chiesto a quella luna, che fai tu luna angel? Dimmi che fai, silenziosa luna. E forse la luna, se solo la morte gli avesse dato il tempo, avrebbe risposto. E sicuramente una risposta gliel'avrebbe data, perché Ungaretti la risposta... Guardo la stupidaggine degli uomini, avrebbe potuto dire, perché poi la guerra è questa. E sicuramente avrebbe chiesto a quella luna perché. E la luna, sono certa, vi ripeto, avrebbe avuto una risposta, perché questa luna di Ungaretti una risposta ce l'ha, a differenza di quella di un canto notturno. Questa luna ce l'ha una risposta. E la risposta che in realtà Ungaretti aveva già accennato, nel porto sepolto, in questo infinito che però non ha avuto occasione di essere raggiunto dal ragazzo che muore, muore senza una risposta. Proprio nel momento in cui incontra una luna disposta a rispondere. Questa luna avrebbe avuto una risposta, gliel'avrebbe data, gli avrebbe detto benevola, materna, no? Una luna non impietosa, una luna caritatevole, avrebbe risposto un senso, ce l'ha. Il perché, te lo dico io, è in quell'infinito in cui ci si può inabbissare. E che rappresenta la risposta al dolore, rappresenta la risposta alla non vita, rappresenta la risposta alla morte. Ecco, noi abbiamo dato questa lettura. Questo potrebbe essere un senso. Logicamente noi ci fermiamo, o meglio, chiudiamo questo ciclo e tra 15 giorni ne iniziamo un altro. Quindi vuol dire che comunque continueremo ancora con la nostra trasmissione. Sì, dopo ci inventeremo qualcos'altro. Quindi vuol dire che comunque per tutto dicembre ancora sarà in nostra compagnia. E logicamente tra 15 giorni cambia anche l'argomento. Cambia l'argomento, sì, sì, sì. Ci sono diversi argomenti. Non anticipiamo nulla, no. Io mi auguro di riuscire ad arrivare, ad arrivare, diciamo, in termini proprio di stimolo alla riflessione. E laddove non arrivo? Io, ecco, inviterei a leggere, però, con, diciamo, una propria, diciamo, interpretazione, con una propria sensibilità, no? Questi versi che però comunque sono convinta ad ognuno possono dare delle risposte, no? Questi versi, questi temi che abbiamo un po' trattato, no? Che in qualche modo aiutano, però, secondo me, a riflettere e a dare un significato diverso a tante cose, a tante situazioni. Indubbiamente.